Quando ero in vacanza, ero andato in una grotta e ho trovato una vecchia macchina Pog. Siamo a Marcia Ussia, nel fondo di una grotta artificiale. Sul fondo di questa grotta abbiamo trovato un genere di automobili, una Ford. Abbiamo trovato la targhetta. Una Ford, presumibilmente negli anni 70, completamente arrugginita e sfondata da dei massi che sono caduti dalla volta nella grotta. E ci stiamo chiedendo cosa ci sta a fare un'automobile qua e come ci sta a fare. Invece non si trova un buco di una ruota. Ford, tipo GBFN, versione S. Oh che ruota! Invece è dolce Questa è dolce Questa è dolce Grazie a tutti